Millie Carlucci, la rivelazione che mette a tacere tutti, la cruda, verità? Millie Carlucci, una delle conduttrici più famose della tv, ha finalmente messo a tacere tutti. Ecco cosa ha rivelato e di cosa si tratta. In principio fu, l'altra domenica, la trasmissione cult, della televisione italiana, che qualche settimana fa ha festeggiato i 45 anni dalla messa in onda della prima puntata. Nata dal genio creativo di Renzo Arbore e Dugo Porcelli, fu una delle prime trasmissioni Rai ad essere realizzate a colori. Trasmessa sulla rete 2, l'attuale Rai 2, ha rappresentato uno straordinario trampolino di lancio per tanti artisti. Qualche nome, Roberto Benigni, Mario Marenco, Giorgio Bracardi, Isabella Rossellini, le sorelle Bandire e poi lei, Millie Carlucci. La conduttrice, sulla cresta dell'onda ormai da anni, dopo anni ha voluto chiarire e mettere a tacere alcuni dubbi che sono circolati sul suo conto e sul suo aspetto fisico. Millie Carlucci, la rivelazione che spiazza. Camilla Patrizia Carlucci, in arte Millie, aveva soltanto 22 anni quando esordì nelle domeniche pomeriggio dell'altra domenica. Anche per lei quella trasmissione segnò l'inizio di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Sono passati 45 anni da allora e Millie Carlucci è ormai diventata la conduttrice regina della televisione italiana. Ha magistralmente condotto trasmissioni completamente diverse tra loro. Chi non la ricorda accanto all'indimenticato ed indimenticabile Fabrizio Frizzi in varie edizioni di, scommettiamo che, oppure brillante conduttrice del Festival di Sanremo. Dell'evento musicale, Pavarotti and Friends, o del varietà di più lunga vita della Rai, Ballando con le stelle, in onda dal 2005. Sono passati 45 anni dall'esordio, ma sembra che Millie Carlucci abbia bloccato le lancette dei suoi orologi. Il tempo per lei sembra essersi fermato. Sempre bellissima, nella sua proverbiale eleganza. Non è che la conduttrice abbia fatto ricorso a qualche ritocco estetico per apparire sempre così giovane? La sua rivelazione chiude definitivamente la bocca a tutti gli scettici. Il suo, vero, segreto. Con l'educazione ed il garbo che da sempre fanno parte del suo bagaglio personale, ha risposto chiaramente che il suo segreto non appartiene alla chirurgia estetica, ma soltanto ad uno stile di vita sano. A tutte le persone che le chiedevano come facesse a tenersi sempre così in forma ha risposto pubblicando un libro intitolato, Il meglio di te, volersi bene per essere in forma? Il suo, vero, segreto è una sorta di matriosca. Ve ne sono diversi, uno contenuto nell'altro, ma che tutti insieme, rendono possibile il mantenimento di una forma psicofisica invidiabile a qualsiasi età. Importante è il rapporto con il cibo. Non digiunare, che comporta soltanto conseguenze negative, ma mangiare le cose che fanno bene al proprio organismo, secondo il metabolismo ed il fisico di ciascuno. E poi fare attività fisica quotidianamente è fondamentale. L'ultimo consiglio della conduttrice è forse quello più importante. Per tutti, dice Millie Carlucci che noi siamo animali sociali, per cui dobbiamo stare insieme ad altre persone, relazionarci con gli altri e fuggire dall'isolamento provocato da internet e dagli smartphone. Socializzare fa tanto bene, a tutti e a qualsiasi età.